Ora parliamo di sport, il Pescara parte per Ponte d'Era dove sarà in campo domani alle 17.30, conferenza stampa prepartita poco fa di Mister Autori, allora le ultimissime con Enrico Giancarli dal quartier generale Biancazzurro. Enrico? E' completato da Ferrari e Dursi, il dubbio riguarda il portiere, debutto di Iacobucci oppure conferma di Sorrentino, il tecnico Autori non ha sciolto il dubbio in conferenza stampa, mentre al 100% al posto dello squalificato Memusce giocherà Zappella, ascoltiamo Autori. E' uno scelto squalificato, Chiarella da un paio di giorni ha dato l'ok per poter cominciare, lui sta già lavorando da un mese e mezzo, non si è mai fermato, però il contatto fisico avendo avuto un problema, insomma un intervento alla spalla. E' una bella onedizione perché Chiarella è un giocatore giovane ma di qualità, i problemi in settimana che hanno fatto lavoro differenziato sono Bosic e Galano, adesso vedremo, ma credo che saranno non disponibili per la partita. Non lo so, io mi baso su quello che dice l'allenamento quotidiano, la settimana di lavoro, ma non soltanto l'ultima settimana, anche un percorso di lavoro fatto insieme. C'è Zappella che è un giocatore che può interpretare bene quel ruolo, già da 15-20 giorni viene addestrato, allenato in quel ruolo, quindi è chiaro che Zappella è un giocatore diverso da Memusciai per caratteristiche. E quindi cambiano alcune cosettine, ma voglio dire, i giocatori bisogna metterli nelle condizioni migliori, Zappella è diverso da Memusciai per cui non è un giocatore che può entrare dentro il campo a gestire il gioco. Un cursore di fascia, un giocatore di quantità, un giocatore che dovrà cercare sviluppi in alcune situazioni ma giocherà a Zappella. Non lo so ancora, Yocobucci sta molto meglio perché è arrivato da 15 giorni, però come ho detto la settimana scorsa, Sorrentino è un giocatore, un ragazzo giovane, ma che sta facendo bene, che gioca con autorevolezza, personalità e poi è un giocatore che ha qualità. Quindi ancora Bumpi, ancora non ha deciso, diciamo. Ma non ve lo dico adesso, cioè, non voglio dire, è sul portiere. Io tutto ho deciso, però poi dopo, voi lo volete sapere voi, è un'altra cosa. Preferisco evitare di dirlo, così. Ma De Marchi è un giocatore che può giocare in tutti i ruoli, ma lo ha già fatto e anche bene, in tutti i ruoli davanti, ha fatto la punta centrale, ha fatto la punta esterna, fra virgolette. Noi non giochiamo con le punte esterne, noi non giochiamo con giocatori di fascia, che vanno soltanto sulla lateralità del campo, quindi è un giocatore che ha interpretato anche quei ruoli, ha fatto anche bene. Squadra aggressiva, si gioca su un campo sintetico, dove le azioni prendono velocità ancora di più. Squadra aggressiva, una squadra che ha consistenza, una squadra organizzata, una squadra che mi ha fatto una buonissima impressione, squadra solida, tipica dell'AC. Quindi è una bella partita impegnativa, ma voglio dire, ogni avversario ha le proprie peculiarità, anche qui in questo giro ne sono avversari scadenti. Con me stesso sono molto incazzato, arrabbiato, poi io la vivo quasi a 360 gradi, ciò che faccio dal punto di vista del lavoro mi condiziona anche in tutto quello che faccio all'esterno. Per cui certo che siamo arrabbiati e quindi possiamo anche capire, anzi di sicuro capiamo, la delusione anche un po' di tutti. Chiaro che rispetto all'inizio un po' di positività l'abbiamo persa, i risultati, però obiettivamente non ci sta dicendo neanche bene. È chiaro che dobbiamo fare prestazioni migliori perché non ci sta dicendo neanche bene. Potremmo dire tantisemma, ma servono a poco perché i risultati anche nell'ultima partita, perché non abbiamo vinto, perché abbiamo perso a Siena. Poi potremmo anche dire in tutte e due le partite potremmo raccogliere qualcosa in più per le prestazioni che abbiamo fatto. Ma restano chiacchiere, per cui il primo a essere deluso sono io. Queste dunque, Carmine, le parole del tecnico biancazzurro Gaetano Auteri. Domani alle 17.30 il match contro il Pontedera. Proprio il 19 settembre l'ultima vittoria in trasferta del Pescara a Pontedera, ma quella volta l'avversario era il Montevarchi. La speranza è che possa portare fortuna il terreno di gioco toscano ai biancazzurri. Se non ci sono domande, Carmine, ti restituisco la linea a te.